...a 64,33%, 52,7%, lasciando sul campo oltre il 12%. Secondo l'organizzazione della nuova azione, la problematica è la zona di Grecia, la prima persona di Soprima è la zona di Soprima, e la zona di Soprima è la zona di Soprima, e la zona di Soprima è la zona di Soprima, e la zona di Soprima è la zona di Soprima, Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.